Onorevole, è un appendice del Parlamento questo? Assolutamente sì, il 15 ottobre come ben sapete non posso entrare, non mi è concesso entrare, non ho l'onore di poter rappresentare i cittadini che mi hanno eletta e quindi decido di stare comunque nei pressi del Parlamento. Lei non può entrare perché non ha il Green Pass, dico bene, per quanto riguarda la Presidente della Repubblica, come facciamo adesso? Io spero e mi auguro che ci sia un ravvedimento almeno per il Presidente della Repubblica. Ma la moca col caffè l'abbiamo portata stamattina? Non l'ho dimenticata lì. Onorevole, lei è un po' la Djokovic della politica, diciamo. Grande Djokovic, grande campione. Un il nuovo condotto sordino senza amore, è fedele di e la scomma da nichti fa. Ben gorgio! Ben gorgio! Ben gorgio! Da boo na! Da siete! Da metatiche! Daafo we che! Daって la! Da vmento che! Da! Da cinikkote!